Buonasera 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 C'è il look e tutto un programma Buonasera Come ti chiami? Che necessita Che necessita? Quindi ho capito, voi siete spagnoli, vestigiani, che siete? Vestigiani Vestigiani Laszbo 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 E che ci fates qui? Dormimos Dormites? Tutte e tres? Allora, signore e signori, con lo scherzo dei vestigiani, i dormitos Facciamo un applauso di corregiamento Amigos 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 Che famos? Che famos? Che famos? Llegiamo Llegamos 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 A Fútbol Llegamos Che famos? Che famos? Che famos? Jogamo? Jogamo? A che jogamos? Jogamo a tenis. Jogamo a tenis? Jogamo a tenis? Che necessitavi a joga a tenis? Quando joga a tenis necessita dos persone, dos raggetti e una pelota. Bojpa di gozo, bojpa di gozo. Dormimos? 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 Amigos! Che famos? Che famos? Che famos? Jogamos? Jogamos? A che jogamos? Jogamos a... Golpe? Jogamo a golpe? Che necessita? E joga a golpe? Ora che la golpe necessita una mazza, dos pelotas e un buco. Io metto la mazza. Io metto le pelotas. Dormimos, dormimos. Dormimos! Dormimos! Ora capisco perché siete presentato come dormimos, dormimos! Dormimos! Ah, no! Stai capito! Allora grazie ancora messigami! Ci vediamo più tardi! Questo è buono! O 먼 condominio... E vai dire una nu..